Benvenuti a questa nuova intervista di Radio FSC Unimore, in occasione del festival L'Italia di Domani. Il titolo del festival di quest'anno è Tempi Radicali. Ai nostri microfoni abbiamo l'onore di avere Pietrangelo Buttafuoco, maestro nell'arte della parola, ribelle dal pensiero radicale. Pietrangelo Buttafuoco, lei ha tenuto un intervento sull'egemonia culturale. Sono molti gli intellettuali che hanno evidenziato questo problema e provengono, tra l'altro, da ambienti assai diversi. L'idea comune è che ci sia la presunzione da parte di un'elite di possedere una superiorità culturale che assume anche connotati morali. Ci sono davvero i buoni e i cattivi? Ovvio, certo che ci sono i buoni e i cattivi. Naturalmente i cattivi e i buoni vengono definiti tali dal pretesto e da un punto di vista assolutamente soggettivo. Noi che abitiamo nella sfera occidentale siamo i buoni per eccellenza. Non abbiamo altra prospettiva che quella di indirizzarsi verso la bontà assoluta, perché tutto ciò che è passato è male, tutto ciò che verrà sarà il meglio. Ovviamente è una sonora stupidaggine, ma questo passa il convento. L'egemonia culturale passa anche attraverso la manipolazione della lingua. Siamo nell'era del politicamente corretto. Ogni volta che ci si espone si ha il terrore quasi di offendere qualcuno. Le parole, e questo voglio chiederglielo, le parole hanno un proprio peso specifico? E in ogni caso, secondo lei, questa è la giusta via per educare il rispetto e combattere le discriminazioni? Ma le parole hanno una fondamentale importanza non fosse altro perché hanno un fondamento sacrale. In principio era il verbo, ovviamente il rito è fatto di parole, la scoperta stessa della fonè. La nostra antichità si suggella nella capacità proprio di forgiare la parola. E questo ci arriva dall'India, ci arriva dalla Grecia, ci arriva dalla profondità dell'Africa, ci arriva pure da quella che poi è stata la sovrapposizione di culture nelle Americhe, che è quella meridionale e quella del nord. Se noi andiamo, per esempio, ad ascoltare la voce remota degli aborigeni nell'attuale Canada, abbiamo la sorpresa di sentire un qualcosa che li accomuna all'Asia. È così un percorso sciamanico, dove la geografia non ha nessuna importanza, mentre invece la parola sì. E quello che succede oggi è nient'altro che il capovolgimento di un meccanismo per cui, in nome della bontà, noi andiamo a massacrare chiunque sia diverso da noi. È già successo in Europa quando, col sorgere della modernità, si prende una filosofa come Ipazia e la si mette a morte. Si bruciano i libri di Platone e di Aristotele, si cancella tutto quello che era stato il lascito della civiltà greco-latina e se non ci fossero stati i cattivi, i cattivi che nelle madrasse, nelle antiche moschee in Andalusia o in Medio Oriente si mettevano a tradurre Platone e Aristotele, non avremmo oggi neppure la possibilità di tenere il microfono perché questa tecnologia deriva dall'intuizione di Platone e di Aristotele. C'è da dire che oggi questo utilizzo della lingua viene fatto a favore delle minoranze? È un antico marchigegno tutto di truffa che l'astuzia della storia conosce. Quindi la parola può essere anche utilizzata? Eh, Orwell ci ha scritto un capolavoro. Il pensiero unico vuole la lingua unica, adesso anche il menu unico. e quando tu stabilisci che qualcosa è il bene, a quello ti devi adeguare. Guai per i cattivi. E proprio su questo vorrei chiederle, questo clima di cui stiamo parlando, come incide sullo sviluppo dell'intelligenza, dello spirito critico, sulla generazione del genio proprio? Proprio quello è il guaio. Noi ci stiamo lasciando alle spalle un mondo fatto, per esempio, di fortilizi ben precisi, che abbiamo distrutto. La libreria, il teatro, la sala cinematografica. Non sono solo retaggi del passato, un modo diverso di comunicare. Una stupidaggine. Perché se andiamo a considerare gli antichi spazi della rappresentazione nelle civiltà dell'Asia, in quelle europee, nel mondo intero, sappiamo che da sempre c'è stato questo bisogno di trasformare la Gorà in un catarsi, sia essa dramma, tragedia, commedia, teatro, in una sola parola, per poi diventare polis, quindi la città consapevole della politica. Venendo meno i teatri, venendo meno le librerie, venendo meno le sale cinematografiche, cioè i luoghi di incontro dove conoscersi, riconoscersi, guardarsi, confrontarsi, a poco a poco siamo diventati delle monadi isolate che adesso apparecchiano nella meravigliosa costruzione del metaverso. Esistenze che vengono aggiustate giorno dopo giorno, istante dopo istante. L'alienazione è quella che sta in agguato. E ora, voi durante l'intervento avete parlato molto di natura, di cultura. Allora le faccio una domanda difficilissima. Che rapporto c'è tra cultura e natura? E' un rapporto ovviamente conflittuale, impari. Hegel odiava la natura, osservava la meraviglia delle cime innevate e ne aveva disgusto. Perché credeva profondamente invece nella capacità e nella potenza dello spirito. La natura ha un tramite però, cioè il percorso che attraversa la nostra stessa biologia, attraverso il quale il sacro ci dà delle indicazioni e delle direzioni. Nel bel mezzo della natura selvaggia, lo sciamano riesce a catturare attraverso i venti, le energie, la radura, la possibilità. Bisogna essere sciamani per attraversare questo tempo difficilissimo. Quindi è vero che in un certo senso dobbiamo ritornare alla natura, diciamo a sentire quell'impulso naturale? Sì, dobbiamo... Posso dare un suggerimento, è una radio la vostra. Sì. Mandate in onda Franco Battiato, risvegli di primavera. Che spettacolo, grazie mille. Grazie a voi.